De Folle Posto e 2030 presenta un mito del calcio. Antonio Valentina Angelillo. Nato a Buenos Aires il 5 settembre 1937 e scomparso a Siena il 5 gennaio 2018. È stato un calciatore di ruolo attaccante o centrocampista e allenatore di calcio argentino naturalizzato italiano. Angelillo è il figlio unico di Antonio e Soledad. Suo nonno era un italiano emigrato in Argentina d'Arapone, piccolo comune della Lucania. Angelillo muove i suoi primi passi nel mondo del calcio nel club locale dell'Arsenal della Vallol. Tre anni dopo compie il salto di qualità, passando al Racing Club de Avellaneda, club con cui debutta nella prima divisione argentina a soli 17 anni. Nel 1956 viene acquistato dal Boca Juniors, per 4 milioni di pesos. Angelillo viene schierato da centravanti e realizza 16 gol in 34 presenze. Le sue prestazioni di alto livello gli fanno vodagnare la chiamata della nazionale argentina da parte del CT Guillermo Stabile e la convocazione per la venticinquesima edizione del 1000 e 957 in Peru del campionato sudamericano. La squadra argentina dominò e vinse quel campionato sudamericano e Angelillo, nonostante la sua giovane età. Ne fu grande protagonista assieme ai suoi partner d'attacco umbero maschio ed Enrique Omar Sivori, con cui compone il trio degli Angeli dalla faccia sporca, soprannome dato loro da un massaggiatore perché uscivano sempre fuori dal campo con il volto sporco di fango. In quel torneo maschio segnò 9 gol, Angelillo 8 e Sivori 3. L'ex plua in Peru di Angelillo lo fece diventare presto oggetto del desiderio per molti club stranieri. Angelillo, che aveva solo 19 anni, sarebbe dovuto partire militare in quel periodo e in realtà non avrebbe neanche potuto lasciare l'Argentina. Ma alla fine i soldi prevalgono sempre su tutto e così l'Inter nel 1957 grazie a un assegno di 80 milioni di pesos riuscì ad acquistarlo e farlo arrivare a Milano a dispetto delle autorità argentine, tanto che Angelillo per 20 anni non poteva fare ritorno a casa. Angelillo debuttò in serie all'8 settembre 1957 nel pareggio per 0 a 0 contro il Torino. Trovò come compagni d'attacco il vecchio veleno Lorenzi, che giocava la sua ultima stagione in maglia nero-azzurra, il non più giovane Scoglund e Massey, anche lui un oriundo argentino. Gli esordi per il grande acquisto non furono semplici. Il problema della lingua e l'adattamento al nuovo campionato resero l'inizio di Ava, come lo ribattezzò il grande Gianni Brera, assai difficile. Nonostante ciò, Angelillo chiuse il campionato con 16 gol in 34 partite. Nella stagione successiva, 1958-1959, si laureò capocannoniere con 33 gol, tra cui una cinquina contro la Spal, stabilendo un record per i tornei a 18 squadre, con 38 reti complessive, inoltre, eguagliò il primato stagionale di gol realizzati con la maglia dell'Inter, appartenente fino a quel momento solo a Giuseppe Meazza. Angelillo rimase all'Inter per quattro stagioni, totalizzando 127 partite e 77 gol. Nel 1961 però, il rapporto con il club di Angelo Moratti si deteriorò, l'allenatore Elenio Herrera accusava Angelillo di condotta negligente. Effettivamente, la sua resa in campo era sotto le aspettative e passava troppo tempo in compagnia della ballerina Ilia Lopez. Questo e il cattivo rapporto con Herrera furono i motivi che convinsero la società a cedere l'attaccante argentino alla Roma. L'Inter durante la cessione, volle tutelarsi inserendo nel contratto di una clausola che impegnava la Roma acquirente a non cedere Angelillo al Milan, alla Juventus o alla Fiorentina, clausola di cui Angelillo non era a conoscenza. Alla Roma disputò quattro stagioni positive, a parte un inizio molto stentato, giocando come centrocampista. Rimase fino alla stagione 1964-1965, totalizzando 27 gol in 106 presenze e vincendo la Coppa delle Fiere 1960-1961 e la Coppa Italia 1963-1964. Neocuab Capitolino arretrò a centrocampo, divenendone il regista e disputando, secondo gli osservatori più attenti, Brera in primis. Tre campionati di alto livello. Nell'estate del 1965 Angelillo si trasferì al Milan di Nils Lidon. Con i rossoneri disputò una mediocre stagione. Undici presenze e uno rete, anche a causa della sua lunga militanza con la maglia dei cugini dell'Inter, malvista dai tifosi rossoneri. Nella stagione 1966-1967. Quindi, passò a Lecco, neopromosso in Serie A, dove giocò con il giovane talento brasiliano Sergio Clerici. In 22 partite segnò una sola rete e la squadra retrocesse in Serie B, nell'estate del 1967, nel tentativo di rilanciarsi in una grande piazza. Angelillo si trasferì in prova al Napoli, partecipando a una turne della squadra azzurra in Colombia, Peru, Bolivia e Venezuela. Durante questa turne, riformò per qualche partita la famosa coppia con l'amico Omar Sivori. Quest'ultimo fu il promotore dell'arrivo di Angelillo in maglia azzurra e sostenne l'acquisto definitivo alla dirigenza del Napoli, che cercava calciatori dal glorioso passato a basso costo. Tuttavia, le prestazioni appena sufficienti nelle amichevoli con il Napoli e, soprattutto, il grave infortunio occorso al suo amico sponsor Sivori durante la tournée, portarono all'annullamento dell'accordo con la società partenopea. Sfiduciato e senza squadra, Angelillo accettò di tornare al Milan in cerca di un'attaccante d'esperienza da impiegare solo in caso di emergenza. Contribuì alla vittoria dello Scudetto, segnando un gol in sole tre partite disputate. L'anno successivo giocò in Serie B con il Genoa, totalizzando 22 presenze e 5 reti. Nel 1969 decise di scendere tra i dilettanti, unendosi all'Angelana di Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi. Qui ricoprì il doppio ruolo di giocatore e allenatore fino al 1971, anno del suo ritiro. A livello internazionale, Angelillo fa il suo debutto nella nazionale argentina il 15 agosto 1956 durante una vittoria per 1 a 0 contro il Paraguay. Ottiene grande successo durante il campionato sudamericano de football 1957 in Perù, segnando otto gol e contribuendo alla vittoria della squadra. Viene paragonato a Di Stefano dalla stampa sudamericana. Tuttavia, nonostante le aspettative, l'Argentina viene eliminata al primo turno del Mondiale 1958 in Svezia. Essendo oriundo, Angelillo viene chiamato nella nazionale italiana nel 1960, poiché in Argentina chi gioca all'estero non può rappresentare la squadra nazionale. Gioca solo due partite con l'Italia, con una vittoria e una sconfitta, segnando un gol contro Israele. Non viene convocato per le qualificazioni ai mondiali del 1962. Partecipa invece ad alcuni incontri per la nazionale di Lega, composta dai migliori stranieri del campionato italiano e da giocatori italiani esclusi dalla nazionale A. Terminata la carriera da calciatore, Angelillo inizia la carriera da allenatore con la squadra dilettantistica angelana di Santa Maria degli Angeli, in Umbria, dove ricopre il ruolo di allenatore e giocatore dal 1969 al 1971. Successivamente, allena diverse squadre tra cui Montevarchi, Chieti, Campobasso, Rimini, Brescia, Regina e Pescara, ottenendo la promozione in Serie A con quest'ultima nel 1978-1979. Si distingue anche con l'Arezzo, portando la squadra alla promozione in Serie B nella stagione 1981-1982 e sfiorando la Serie A nel 1983-1984. Successivamente allena Avellino, Palermo, Mantova, nuovamente Arezzo e i marocchini del Farrabat. Conclude la sua carriera in Serie C2 con la Sassari-Torres, venendo esonerato durante la stagione 1991-1992. Dopo il ritiro, lavora come osservatore per l'Inter, scoprendo talenti come Aviar Zanetti. Ti ringraziamo per averci scelto, e ti ricordiamo di iscriverti al canale e lasciare un like. Grazie.